Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Preghiamo. O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito e lo compiano con totale dedizione. Amen. Mediante il battesimo gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo. Con Lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo spirito dei figli adottivi, che ci fa esclamare Abba, Padre, e diventano quei veri adoratori che il Padre cerca. Così dice il Sacro Santum Concilium. Pensare alla Chiesa a partire dal sacramento del battesimo, dall'inizio della vita ecclesiale, significa pensare alla Chiesa a partire da ciò che diventa sempre per la Chiesa fonte di vita nuova. Il battesimo non appartiene al passato della vita dei cristiani. Il battesimo è quella fonte di acqua viva che continua a bagnare e a fecondare la vita quotidianamente. Dunque ricordare semplicemente la data del battesimo nostro significa renderlo presente, efficace, operativo nella nostra esistenza. E il battesimo compie sempre questa trasformazione, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dall'io al noi, dal singolo alla comunità. E la Chiesa è esattamente questo continuo e permanente movimento. La vita della Chiesa, la natura della Chiesa è profondamente dinamica. La grazia del battesimo, ricevuta una volta per sempre, si ripete e si rinfresca continuamente nella misura in cui memori del nostro battesimo, questa memoria diventa attiva e sblocca la persona e l'anima dal congelamento di un fatto che apparterebbe soltanto a un passato cronologico che sarebbe la data del nostro battesimo. Il battesimo è continuamente questa fonte di trasformazione della vita dei singoli e delle comunità. Certamente il battezzato, entrando in comunità, in comunione con Dio Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo ed entrando immediatamente, anche contestualmente, in comunione con gli altri battezzati si apre anche alla comunione con tutta l'umanità, realizzando, come Chiesa, come comunità dei battezzati quella vocazione che il Concilio chiama anche l'essere della Chiesa, segno e strumento dell'unità dell'intero genere umano. La Chiesa, dunque, è costituita da Cristo come comunità dei battezzati ma non per questo è isolata dal resto dell'umanità oppure crea una comunità elitaria e se in realtà è chiamata ad essere sale, dunque a essere inserita nell'intera umanità con questa specifica vocazione di procurare ciò che è il desiderio e il sogno di Dio Padre su tutta l'umanità quella di essere segno e strumento dell'unità dell'intero genere umano. Sì, permettere al battesimo di compiere in noi questa permanente trasformazione significa essere una Chiesa che si riforma sempre perché se il battesimo innesca in noi questo meccanismo di rinascita e di regenerazione significa che permette e dispone il cuore anche a un atto di permanente conversione e dunque la Chiesa che nasce dal battesimo è una Chiesa, è una comunità di persone che si rinnovano e nel rinnovamento permettono allo Spirito di preparare quelle sorprese che sono necessarie per avverare oggi il Vangelo. E il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen